Sì Lucia, di eccellenza in eccellenza, di territorio in territorio, siamo a Sulmona. Quando si dice Sulmona la prima cosa che viene in mente sono i confetti, quando si dice confetti viene in mente l'azienda Pelino. Buongiorno, con noi c'è il signor Mario Pelino. Buongiorno Antonella, benvenuti a voi, a lei. Io lo dicevo, è un'eccellenza, è una fabbrica, lo dicevamo prima di iniziare la diretta, una fabbrica artigianale perché è un'eccellenza che va avanti di generazione in generazione, possiamo ormai dire da secoli. Sì, abbiamo iniziato nel 1783 ufficialmente, un nostro antenato Berardino Pelino inizia l'attività in un paese qui vicino, in Trodacqua. Poi di padre in figlio l'attività si sposta a Sulmona, quindi intorno al 1850. e nel 1880 il nostro bisnonno, Alfonso, costruisce questa fabbrica. Nelle vicinanze della piccola stazione che sta qui vicino, che è la stazione d'Introdacqua, che è appunto questo paese dove è nata la nostra azienda, la ferrovia Sulmona-Napoli, che a quei tempi era una linea molto importante perché collegava una grande città come Napoli. Insomma, e siamo rimasti sempre qua. Poi, infatti, questi locali sono quelli che viveva il suo nonno, il suo bisnonno, e siamo arrivati alla settima generazione, quasi. No, no, noi siamo la settima e i nostri figli saranno l'ottava. Addirittura, quindi, veramente una produzione che è sempre cresciuta nel tempo. Noi stiamo vedendo delle immagini del museo che qui avete, diciamo, voluto ricreare, proprio per non dimenticare da dove siete partiti. Sì, per non dimenticare noi, per non farlo dimenticare anche, ma poi era quasi una necessità perché avevamo tanti di quei reperti storici e che non sapevamo dove metterli, insomma, e quindi abbiamo pensato di fare questo museo. Questo ha 26 anni, quindi è il 26esimo anno, anzi, il 27esimo, il 2016 è il 27esimo, e quindi abbiamo fatto questo museo che poi si è arricchito piano piano con tutte le cose che siamo riusciti a tirar fuori dai nostri magazzini. Signor Mario, questa è una produzione, un'eccellenza, che però dà anche lavoro a tante persone. Quanti sono i vostri dipendenti, più o meno? Allora, noi abbiamo 40 dipendenti, però poi c'è un indotto, c'è un indotto che ruota intorno a queste composizioni artigianali che vedete qua, che sono tipici e unici di Sulmona. Queste cose si fanno soltanto qua, per il momento, ma spero che durerà così. No, ma anche perché dietro c'è un'abilità che è nata in questa zona, ma secoli fa, io sto parlando, qui si parla del 1400 circa, quindi fare queste, diciamo, lavorazioni artistiche con i confetti è una tradizione che è data molti secoli. E quindi si è creata questa conoscenza che si tramanda di donna in donna o di madre in figlia, e che è un grosso indotto. Di madre in figlia, di donna in donna sono molto spesso le donne, dopo faremo vedere anche come si fanno, però raccolgo un attimo la sua provocazione, di madre in figlia. Vogliamo raccontare una storia, la storia di, in questo caso, un padre e una figlia che si tramandano il lavoro. Il lavoro è quello di un pescatore, cioè sulla costa abruzzese una cosa che si chiamano i trabocchi, ha una particolarità, sono palafitte per pescare. E una ragazza ci ha raccontato la sua storia e quella di sua sorella, legate proprio a questa particolarità. Guardiamola insieme e poi continuiamo a parlare di confetti. Fiori, me lo diceva lei, questi sono prodotti qui da donne che si tramandano di madre in figlia, questa arte, chiamiamola così, dopo vi faremo vedere anche come si fa. Sì, è un'abilità anche questa. Ma sì, se mi posso ricollegare con i trabocchi, in questa regione ci sono delle tradizioni che sono praticamente uniche, che non si trovano in nessun'altra parte d'Italia. Una ragione potrebbe anche essere trovata nell'isolamento che l'Abruzzo ha avuto nel corso dei secoli, perché siamo circondati dalle montagne non facilmente valicabili. E quindi qui sono rimaste delle tradizioni alimentari, gastronomiche o anche di produzione, che non si trovano in nessun'altra parte. E questa è una. E i trabocchi sono anche una nostra unicità. Noi stiamo cercando di raccontarle piano piano queste unicità. Vi abbiamo fatto vedere questo campo fiorito, ve l'abbiamo fatto vedere perché dopo vi faremo vedere come si fa, sia all'interno, quindi il confetto vero e proprio che tutti conoscono, ma vi faremo anche vedere come si confezionano questi fiori. Quindi ci vediamo dopo. Grazie signor Mario di averci accolti. Grazie a voi di essere venuti e un saluto a tutti i telespettatori. So che siamo in diretta, quindi si può fare. Si può fare. Auguriamo anche una buona mattinata. Ci vediamo dopo, Lucia e Fabio. Ci spostiamo in fabbrica e vi farò vedere un'altra sorpresa. Grazie Antonio.